Musica Ciao a tutti! Sì, lo smalto acrilico multiuso Ambrosol è un compagno inseparabile, velocità di utilizzo e massima resistenza, vedremo di tutti i colori. La vernice Ambrosol è uno smalto brillante per interni ed esterni, adatto per uso professionale, ma anche per i lavori di tutti i giorni. Lo smalto acrilico Ambrosol è studiato per una rapidità di asciugatura senza pari. Infatti asciuga in 15 minuti al tatto e in 45 minuti in profondità. Adatto su tutti i tipi di superficie, come vetro, metallo, legno e ceramica. Musica Imbattibile se abbinato allo sverniciatore Ambrosol Un'ampia gamma di colori è a vostra disposizione. Musica Ambrosol Un vero professionista del colore Un colorista. Alla prossima! Musica Stai più tranquillo! Eccolo! Musica Velocità di utilizzo Velocità di utilizzo Velocità di utilizzo E resistenza Mi fate il gobo!